Ciao amici, eccoci qui pronti per parlare di Uomini e Donne perché abbiamo degli aggiornamenti veramente super succosi su Nicole, l'atronista Nicole e la sua inaspettata decisione più che altro. Allora, da qualche giorno stiamo già venendo qui con un sacco di video raccontando delle varie vicende che riguardano la nuova protagonista del dating show di Maria De Filippi e lo scontro con Roberta Di Padua che è stato veramente glamoroso, qualcosa che tra l'altro continua a far discutere nonostante le liti e nonostante le discussioni sopra le righe non manchino certo al programma. Addirittura l'ex di Riccardo Guarnieri ha minacciato di ricorrere alle vie legali, sapete quando si dice metto tutto in mano a chi di dovere. Nicole Santinelli, infatti, ha preso di mira Roberta e, prendendo spunto dalle sue parole, ha fatto delle allusioni che non sono piaciute per niente alla dama. Vecchia conoscenza del programma, lei nella sua maniera sottile mi ha detto quella frase che non mi è scesa e per la quale lei ne risponderà. Per saperne di più basta cliccare qui sotto, per il resto arrivano indiscrezioni davvero inaspettate sulle mosse dell'atronista. Cosa succederà nelle nuove puntate di Uomini e Donne? L'attendibile Lorenzo Pugnaloni lo ha svelato a Blasting News. Intanto va ricordato che Nicole aveva fatto capire di essere interessata ad Andrea. Anzi, più che interessata visto che si è parlato pure di un bigliettino gate, e quindi dell'ipotesi che i due si frequentassero anche fuori dallo show, cosa ovviamente vietatissima. Christian aveva preso malissimo tutta la faccenda e deciso di lasciare il programma. Forse sperava che Nicole lo andasse a riprendere, ma l'atronista ha scelto di lasciarlo andare via e dunque saranno altri a contendersi il suo cuore. Nel frattempo sul web c'è chi lancia indiscrezioni, tutte da verificare, su una presunta crisi tra l'ex tronista Federico Nicotera e la sua scelta Carola. Chissà, sono usciti da così poco e già è crisi. Ma, intanto, tornando a quello che vedrete nelle prossime puntate c'è da segnalare che Paola, dama del trono over, finirà nell'occhio del ciclone, travolta dalle critiche. Gianni Sperti e Armando Incarntu, infatti, non le perdoneranno la decisione di rifiutare un pretendente giunto in studio per lei. Critiche, attacchi e polemiche, insomma gli ingredienti che, assieme alle passioni e le emozioni dei nuovi amori, rendono ue di una delle trasmissioni più seguite di sempre. divertiamo un po' con i famosi gratta e vinci, tanto pago io, che me frega. Detto questo, vi saluto, mi raccomando, vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.